Bonafede, travolto dagli scandali, sospende la sua in fausta circolare del DAP che ha condotto alle ignotili, in vereconde, immonde scarcerazioni di centinaia e centinaia di mafiosi. Sospendi Bonafede, quella circolare va revocata, va annullata, nella lotta alla mafia non si sta in mezzo al quadro. Ed è la classica toppa peggio del buco. E' peggio del buco perché la mafia si nutre di fusillanimi come te. E' peggio del buco perché è l'ennesimo schiaffo ai parenti delle vittime di mafia, alle forze dell'ordine che si aspettavano per altro risarcimento per il guaio che hai combinato. E' peggio del buco perché la sola sospensione in ogni caso influenzerà le decisioni della sorveglianza sulle scarcerazioni dei boss mafiosi. E allora provo a spiegartela così, Bonafede. La sospensione della circolare sta alla lotta alla mafia come tu stai a questo governo. Una toppa peggio del buco.